Il bilancio si può riassumere in una parola, tutti i luoghi comuni sull'incapacità delle amministrazioni di collaborare e di fare squadra vengono infranti da questo percorso che abbiamo avviato da sei mesi e che in sei mesi ha portato ad infrangere molte barriere nel senso che si lavora insieme e si ha la percezione che il cittadino non riconosce diversi enti locali ma una sola pubblica amministrazione. Quindi si vince o si perde insieme, oggi credo che abbiamo posto un punto fermo su questo principio e su questo criterio si lavora, si propongono dei prodotti, si valuta l'impatto che ha sui cittadini, si decide insieme come migliorarlo.